Tassani Theater, dove l'emozione va in scena. In questo video, Tassani presenta le fasi del ciclo di applicazione di Folk, la nuova finitura ad acqua che consente di ottenere un raffinato effetto cromatico delicatamente metallizzato che si adatta a qualsiasi tipo di ambientazione. Per questo ciclo di applicazione avrete bisogno di fissativo 1000 o fissativo acrilico consolidante, decobase, Folk, pennellessa e per la finitura in alternativa al pennello potrete utilizzare un frattazzo con angoli arrotondati. Per ottenere i risultati ottimali è necessario pulire la superficie trattata asportando le vecchie pitture non perfettamente aderenti. Dopo aver preparato il supporto con una mano di fissativo 1000, applichiamo uniformemente con un pennello o, se preferite, con un rullo a pelo corto, una mano di decobase, la pittura di fondo per interno ad elevata copertura e traspirabilità. Ideale come fondo per l'applicazione successiva dei prodotti decorativi, decobase va diluito al 10% con acqua potabile. Con un litro di prodotto è possibile pitturare 9-10 metri quadrati di parete. Dopo circa 4-6 ore, quando decobase sarà asciutto, procediamo con la seconda mano e la successiva finitura. Folk è pronto all'uso. Utilizzando un pennello, stendiamo il prodotto su una piccola superficie dall'alto verso il basso. Per creare un migliore effetto cromatico, ripassiamo con pennellate brevi ed incrociate fino a quando il pennello non risulterà scarico. Proseguiamo nello stesso modo sull'intera superficie da trattare. Per finire, stendiamo il prodotto con movimenti semicircolari. Subito dopo la seconda mano, quando la superficie è ancora bagnata, procediamo con la finitura, utilizzando un pennello o una spatola decorativa, in base all'effetto desiderato. Stendiamo Folk dall'alto verso il basso, con pennellate ondulatorie. Rifinire la superficie utilizzando il frattazzo, premendo delicatamente con spatolate brevi e incrociate, per creare un migliore effetto cromatico. Avere cura di mantenere ben pulito il frattazzo durante l'applicazione. Con un litro di Folk, è possibile pitturare 8 metri quadri di parete. Dopo circa 6-8 ore, il prodotto risulta asciutto al tatto. Decorativi Tassani Protagonisti di stile Protagonisti di stile